Domani, venerdì 20 aprile, Papa Francesco arriverà proprio a Molfetta, il programma degli eventi che Teredion seguirà in diretta. Sentiamo. A 25 anni, dal 20 aprile 1993, Dies Natalis, di Don Tonino Bello, Papa Francesco arriva a Molfetta. E' ormai tutto pronto, è la prima volta in oltre 2.000 anni di storia cristiana che un pontefice giunga in questa diocesi. Il tutto prenderà il via alle ore 8.30, Francesco arriverà ad Alessano, città natale di Don Tonino. Saluterà i parenti e farà il suo discorso. Alle 10.15 arriverà a Molfetta, accolto dal Vescovo Monsignor Domenico Cornacchia e dal Sindaco Tommaso Minervini. La Santa Messa sarà celebrata alle ore 10.30 sul Molo del Porto, luogo che ospitò i solenni funerali di Monsignor Bello. Una troupe di Teredion seguirà in diretta questo grande evento. Inoltre, trasmetteremo in diretta la Santa Messa, tradotta nella lingua dei segni. Non perdete l'appuntamento sul Canale 18 e in HD sul 518. Potete seguirci anche in streaming sul nostro sito internet www.teredion.it e sull'app che potete scaricare da Google Play o App Store.